Come ho detto ieri al dottor Renzi, ieri c'era la partita, ma oggi no. Fedez, il rapper e influencer che negli ultimi mesi si è intestato alla battaglia pro di D.L. Zan, lo aveva annunciato, anzi minacciato ieri, e dunque eccolo puntuale tornare all'attacco di Matteo Renzi e della sua linea trattativista sul provvedimento contro l'omotransfobia. L'apertura a Salvini e la disponibilità dunque a modificare in alcuni punti il testo pur votato da Italia Viva alla Camera pur di farlo passare, perché tanto sostiene Renzi, altrimenti non ci sono i numeri. Eccolo Fedez, riaccendere il cellulare, organizzare una specie di dibattito su Instagram con il PD Zan, il radicale Cappato, e l'ex parlamentare, prima rottamatore con Renzi, poi più a sinistra, fondatore di Possibile, Pippo Civati. Voglio capire, aiutarvi a capire, dice lui che in Parlamento non c'è, cosa sta succedendo? Prima di Fedez, questa volta, ieri, aveva parlato sua moglie, la regina dei social, Chiara Ferragni, attaccando tutto e tutti, politici mi fate schifo, aveva postato. Pronto a confrontarmi con lei, aveva replicato Renzi, consapevole di essere il primo fra i bersagli. Qualunquista le aveva detto, e le ripete oggi, siamo sotto attacco degli influencer, aggiunge politici, fate schifo, lo hanno letto 24 milioni di follower, e i miei colleghi hanno paura, stanno in silenzio, accusa Renzi. Cavalcando una polemica che per i molti avversari politici ha il sapore della nemesi. Renzi è stato il primo a teorizzare la disintermediazione sui social, ora raccoglie i frutti, la reazione è dominante. Che Renzi sia nel mirino dei cosiddetti Ferragnez, in questa fase non dispiace al PD, tantomeno ai 5 Stelle. Nessuna soddisfazione, nessun appuntamento all'alba, nessun duello. La coppia d'oro della rete non raccoglie guanti di sfida, semmai infierisce. Matteo Renzi è un politico pagato dagli italiani per rappresentarli. Chiara Ferragni non grava sulle tasche degli italiani, è un'imprenditrice. La cosa che invece fa cogliere il livello e la bassezza della politica italiana è vedere un politico come Matteo Renzi chiedere un dibattito pubblico a Chiara Ferragni. Molto attivo Fedez sul DDL ZAN, il primo maggio sul palco aveva perorato la causa, rivelando pressioni degli organizzatori e della RAI per evitare il tema. Ne erano seguite polemiche, registrazioni rivelate, indignazioni, accuse di censura, qualche contraddizione. Ai sindacati non era piaciuto troppo l'aver velato i temi del lavoro al tempo della pandemia. Da destra era arrivato l'affondo contro il ruolo di Fedez come testimonial di Amazon, non proprio il modello ideale per il primo maggio. Bene che Fedez ora difenda le persone LGBT, sottolinea il renziano Scalfarotto. Prima non era così, ricorda, alludendo a qualche passata scivolata. Quanto a Fedez accumula l'aiche, cuoricini l'antirenzismo premia. Solo Salvini va in difesa. Di Fedez mi piace l'ultimo pezzo, ma preferisco Rietta Berti scherza. Gli argomenti del grillismo d'antan galleggiano nella crisi dei 5 stelle, osservano politologi e mass-mediologi che monitorano le possibili tentazioni politiche di Fedez, per ora antipolitiche, con la segretezza del voto nel mirino.